Francesco Boccia era stato da ministro con Alice, esperienza politica grande, anche esperienza di localismi e di bilanciamento territorio e nazione, domanda chiave, questa crisi ci lascerà qualcosa di utile nella civiltà politica del Paese oppure superata l'emergenza e questo speriamo di superarla, tra l'altro poi bisogna fare un appello alla vaccinazione perché quello lo facciamo alle fine perché sono insospettabili le sacche e i Novax, ci sarà un passo avanti oppure alla fine superiamo l'emergenza e poi ci riprendiamo a darcele di santa ragione? Ogni crisi, da ogni crisi viene sempre fuori qualcosa di buono nonostante la drammaticità della crisi Io penso che ci siano due principi che sono diventati patrimonio collettivo nel nostro Paese e penso anche in Europa Il diritto universale alla salute, così come il diritto universale alla scuola, io penso che non ci sarà più una forza politica in Italia che potrà sacrificarli sull'altare di vincoli di bilancio e questo purtroppo viene fuori dalla drammaticità vissuta da ogni famiglia italiana e da ogni famiglia europea, l'Europa stessa ha imparato la lezione Ora si tratta di capire se la politica italiana ha imparato la lezione del Covid e io qui ho qualche dubbio, lo vedremo Tre anni fa due forze politiche, non vinse le elezioni nessuno a causa di una pessima legge elettorale che nonostante fosse stata presentata dal mio partito io non votai e dissi perché non andava votata Ma prevalse in quel caso la parte più misera della politica, di chi pensa di sopravvivere cambiando le regole del gioco all'ultimo momento Ora mi auguro che si possa cambiare questa legge elettorale tutti insieme, vedremo se ci saranno le condizioni E mi auguro che dopo non si debba toccare per i prossimi 30 anni, come succede nei Paesi civili Però due forze politiche, quelle elezioni diciamo le vinsero rispetto agli altri, non le vinsero per governare Il Movimento 5 Stelle e la Lega Il Movimento 5 Stelle e la Lega tre anni fa erano due forze che insieme condividevano un anti-europeismo Che non era di facciate, era di sostanze Un anno dopo il Movimento 5 Stelle cambia pelle, sostiene la Commissione von der Leyen Che intanto è sostenuta dai socialisti e dai popolari E inizia un'altra stagione politica, anche rispetto all'idea di Europa Due forze politiche in Italia sono chiaramente anti-europee La Lega stessa che è in questo governo è Fratelli d'Italia E non lo nascondono e dicono alcune cose Ora, rispetto ai temi che pone Grimaldi e pone Alice E che furono posti con forza già l'anno scorso qui Se è vero come è vero che noi stiamo discutendo del prossimo decennio partendo dal PNRR Che è figlio della drammaticità della crisi del Covid È evidente che la discussione in questo momento che le forze politiche devono provare a fare E su quale visione di paese di Europa abbiamo nel prossimo decennio Ed è evidente che dentro il perimetro della politica italiana Ci sono forze politiche che dicono una cosa e forze politiche che ne dicono un'altra Allora, Grimaldi ha posto dei temi e ha avuto delle risposte dai ministri Dalle forze politiche, da noi che le rappresentiamo qui E io penso che il valore aggiunto dell'edizione del 2021 Siano risposte molto chiare Poi l'anno prossimo ci rivedremo qui per verificare chi ha fatto che cosa Su alcuni temi c'è ancora molto da fare Penso anche alla formazione del personale Non se ne è parlato Penso alla competizione per esempio del trasporto per strada Di autisti non italiani ma europei Che però vengono pagati molto meno E questo penalizza le nostre aziende Forse di questo noi dovremmo prenderne atto Dovremmo discuterne in Parlamento Lo dico a Beatrice e a tutti gli altri colleghi presenti Cioè voglio dire Non ne usciamo se non dentro una cornice europeista forte E allora se così è Siccome io me lo ricordo ancora L'anno scorso di questi tempi Io sono venuto qui Non avevamo ancora chiuso il negoziato E c'erano delle forze politiche che dicevano Ma state perdendo tempo Noi siamo contributori netti E la solita storia Ci prendono le risorse e le danno Quel negoziato Lo ricordo anche a Gasparri Chiuso da una brillante negoziazione del Presidente Conte Perché altrimenti non l'avremmo chiusa con 209 miliardi Poi capisco le discussioni Le contrapposizioni che c'erano e ci saranno Però ci sono dei momenti storici In cui si riconoscono i meriti A chi quelle battaglie le fa Quel negoziato indipendentemente dalle risorse Che incideranno sui settori E soprattutto sul trasferimento modale Su strada e mare Su ferro e mare Come giustamente chiedete Quel negoziato ha sancito un principio Rispetto al quale io non vorrei più tornare indietro E cioè che ci indebitiamo tutti insieme E finanziamo gli investimenti in Europa Per gli europei e quindi per gli italiani Siccome quella battaglia era una battaglia Che avevamo fatto in tanti negli anni presenti L'aveva fatta il governo Berlusconi Contremonti L'aveva fatta il governo Prodi E cioè del debito comune per finanziare gli investimenti Non ci eravamo riusciti Diciamocelo per una volta Che stavolta ci siamo riusciti E che la spinta è italiana Mi ricordo chi prima In uno dei dibattiti Rivendicava forse In un passaggio Porro O lo stesso Grimaldi Rivendicava i risultati Che riusciamo ad ottenere È un nostro risultato Il recovery È un'operazione tutta italiana Ovviamente fatta in asse Con la Germania e la Francia Perché se non c'è quest'asse Tra Germania, Francia e Italia Non c'è l'Europa Allora rivendichiamolo Chiudiamo questa legislatura Che è una legislatura Diciamo complessa Gli storici poi diranno Quanto diciamo Positiva o negativa è stata Certamente è stata E sarà ricordata Come la legislatura Dell'emergenza Covid E poi ci divideremo Come giusto che sia A ottobre Sono elezioni amministrative Non incidono sul paese Voglio dirlo con chiarezza Incidono sulle città E sui territori in cui si vota A volte vincerà il centro-destra A volte vincerà il centro-destra Io spero di vincere più Di Gasparri Ma non c'entra nulla Il passaggio elettorale di ottobre Con quello che stiamo facendo Qui dobbiamo essere uniti Intorno a Draghi Completare questa legislatura Dare certezze alle imprese Attraverso le imprese Alla società italiana E poi nel 2023 Speriamo che una legge elettorale Che duri per i prossimi 30 anni Proviamo A dividerci costruttivamente Per dare al paese una certezza Poi magari parliamo del Quirinale Che invece c'entra un po' di più Sì Il quadro politico È fatalmente Inedito E questo è un po' di più Grazie a tutti